Cominciando il vostro noviziato per l'ingresso nell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, ricevete, cari fratelli, i panni della prova a forma di croce, come segno della vostra maggiore partecipazione al servizio di Cristo. Possiamo sedere. Grazie a tutti. 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 Esprimiamo la nostra gioia. Ci alziamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.